Un ben ritrovati a tutti. Oggi parleremo di un argomento importantissimo, ovvero sia l'aumento di volume della prostata, un elemento questo potremmo dire quasi parafisiologico che caratterizza la vita degli uomini oltre una certa età. Il cosiddetto adenoma prostatico benigno che naturalmente deve essere affrontato perché non mancano delle ricadute negative sulla funzionalità complessiva dell'apparato urogenitale appunto degli uomini. Ascoltiamo. La prostata è un organo dell'apparato genitale maschile ed è localizzata profondamente all'interno del piccolo bacino al di sotto della vescica, posteriormente alle ossa pubbiche e anteriormente al retto. La prostata è una ghiandola di importanza fondamentale nel sesso maschile, la sua funzione fisiologica è infatti quella di contribuire alla produzione del liquido seminale, quindi ha una funzione fondamentale per quanto riguarda la fertilità maschile. A una certa età la prostata tende, in rapporto a vari stimoli anche di tipo endocrino, ad aumentare di dimensioni e determina invece dei disturbi allo svuotamento della vescica. E quindi ecco comparire tutta una serie di fastidi, come quella di alzarsi la notte per fare la pipì o di andare a fare la pipì più spesso, ovvero di avere una difficoltà a iniziare lo svuotamento della vescica o eventualmente a fare la pipì con un getto sempre più sottile, fin tanto che può capitare che il paziente non riesce più proprio a fare la pipì e deve necessariamente ricorrere alla cateterizzazione della vescica. Che cos'è che dovrebbe fare ogni maschio che intorno ai 50 anni, 60 anni inizia a soffrire di disturbi del basso apparato urinario, come vengono chiamati. Senz'altro come prima cosa consultare il proprio medico curante, esporre quelli che sono i propri disturbi in maniera tale che possa essere fatto un inquadramento, come si dice, prima di tutto clinico. Possono giungere in soccorso anche degli esami strumentali, come può essere per esempio l'ecografia. L'ecografia ci dice un pochettino quali sono le dimensioni della prostata, ma soprattutto può mettere in evidenza quelle complicanze che vanno a colpire la vescica. La prostata di per sé stessa non crea una sintomatologia specifica, ma i disturbi poi sono tutti quanti a carico dell'apparato urinario. Quindi valutare se la vescica si svuota in maniera completa o meno, valutare se esistono a livello della vescica degli spessimenti di parete, la cosiddetta vescica da sforzo che inizia a svilupparsi quando la malattia prostatica è insorta già da alcuni anni, ovvero quelle che sono le complicanze legate alla crescita della prostata. Quindi prevalentemente la comparsa di calcoli in vescica oppure la comparsa di diverticoli, ovvero estroflezioni della parete vescica. Dunque una patologia diffusissima che necessita ovviamente di un approccio specialistico in modo da poter eliminare tutti quei fastidi che sicuramente incidono sulla qualità della vita. Alla prossima!